Oggi è una giornata importante perché noi fermiamo l'accordo tecnico, insieme anche alla sovrintendenza, quindi la definizione del percorso di accesso e delle modalità insieme all'autorità portuale, una cosa che era ferma da più di dieci anni e quindi siamo riusciti, devo dire, in tempi molto rapidi a sbloccarla grazie a una grande determinazione da parte dell'amministrazione comunale, ma una grande collaborazione anche con la Marina Militare e con l'autorità portuale. A breve poi firmeremo l'accordo, chiamiamolo, amministrativo, che è quello che determina un po' le modalità di finanziamento dei progetti e anche di responsabilità, chiamiamolo così, quindi a quel punto sarà possibile l'accesso. Ovviamente poi bisogna fare dei lavori abbastanza significativi per definire poi, per realizzare il percorso di accesso, però noi ci auguriamo che prima dell'estate di cominciare a organizzare un po' delle visite per i cittadini che cominceranno un po' a riapproparsi di uno spazio pubblico fondamentale nella nostra idea di città.